Dopo l'ultima scaramuccia con il rapper Simba La Roo Questa volta anche Baby Gang si è espresso riguardo il programma dritto e rovescio di Del Debbio Andando a dire che se non fosse per lui il programma non sarebbe visto E Del Debbio, come è successo con Simba, gli ha risposto non solo a tono Ma anche dicendo cose oggettivamente fattuali e praticamente andandolo ad asfaltare Ma non aggiungo altro e vi lascio filmati in modo che possiate giudicare voi stessi Fatemi poi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo in un prossimo video, linea lo studio Se a parlare di me i vostri programmi per vecchietti sarebbero falliti tanto tempo fa Come si chiama sto qua? Che tristezza però Baby Gang ascolta a me Baby Gang ascolta a me Anzitutto abbi rispetto per i vecchietti Bravo Va bene Perché Perché sono persone che certamente sono più sapienti di te Nella maggior parte dei casi magari sono anche più bravi persone di te Quindi non rompere sui vecchietti Primo Secondo i nostri programmi Caro Asdrubale Vanno molto bene da molto tempo Da dieci anni Prima Quindi che tu ci sia te O non tu ci sia Per il programma Non cambia una beata mazza Hai capito? Terzo Caro Baby Gang Mi devi ringraziare Che io frequentemente invito persone che rappresentano appunto rapper, trapper eccetera eccetera Perché? Perché lo faccio perché è un fenomeno della società cui bisogna dare voce Altri non gliela danno Io sì Quindi mi devi ringraziare Poi E poi basta Ho già perso troppo tempo Grazie 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 Grazie